Grazie, signore. Arrivederci. Sì, mi sono fatta del male da sola. Non mi piacevo. Mi vergognavo di non riuscire a sopportare le pressioni. E che cosa ha fatto? Mi sono ferita alle braccia e alle gambe. Secondo lei, la signora Parker Bowles è stata un elemento decisivo nella rottura del suo matrimonio? Beh, eravamo in tre in questo matrimonio. Era un po' affollato. Quali prove aveva che la relazione continuasse nonostante voi foste sposati? Il cambiamento nel comportamento di mio marito. Per tutta una serie di ragioni che solo l'istinto di una donna può intuire. Una donna lo sa. Lei pensa che diventerà regina? Vorrei essere la regina dei cuori delle persone. Nel cuore delle persone. Ma non mi ci vedo come regina di questa nazione. Molti non vogliono che io diventi regina. Perché hanno deciso che non ho possibilità di successo. Perché secondo lei hanno deciso così? Perché io faccio le cose in modo diverso. Perché non seguo il protocollo. Mi lascio guidare dal cuore, non dalla testa. Nonostante ciò mi abbia causato delle difficoltà e lo capisco. Ma qualcuno deve pure esporsi, amare le persone e dimostrarlo. Sono qui piena di speranza perché vedo un futuro. Un futuro per mio marito. Un futuro per me. E un futuro per la monarchia. Sua altezza reale la ringrazio. Non si ci ha messo la pietra sopra. Immagino di sì. Immagino di sì.